Torna la Luna e il Sole, il concorso che premia la tesi di laurea degli studenti avventisti presentati negli Atenei Nazionali del 2023. Si partecipa entro il 31 dicembre. Un amore che precede le nostre scelte e il tema della giornata dei Ministeri Femminili ricorre il secondo sabato di giugno in tutto il mondo avventista. Successo a Iesi per la Salute Expo Junior. È stata un'esperienza divertente e istruttiva per i bambini e i ragazzi della città marchigiana. Benvenuti alla nuova edizione del video giornale avventista. Torna il concorso La Luna e il Sole, indetto dall'Istituto Avventista Villa Aurora di Firenze. Anche questa tredicesima edizione premia le tesi di laurea degli studenti avventisti presentate nel 2023 nelle università nazionali. Tesi che riguardano tematiche inerenti alla spiritualità, la religione o la chiesa avventista. Le domande vanno inviate entro il 31 dicembre. Tutte le informazioni sono sul sito villaurora.it Il mondo avventista dedica il secondo sabato di giugno ai Ministeri Femminili. Un amore che precede le nostre scelte è il tema di questa giornata speciale che ci invita a riflettere sul nostro comportamento e a scegliere di amare non solo chi ci piace, ma tutte le persone che Dio pone sul nostro cammino. Questa, sorelle mie, è la nostra opera quotidiana, dice la responsabile mondiale dei Ministeri Femminili. Il materiale in italiano è sul sito indicato qui sotto. Bella, originale, istruttiva, è la Salute Expo Junior che l'Agenzia Umanitaria Adra e la Chiesa Avventista di Ghesi hanno allistito in città. L'iniziativa rientrava nell'ambito di Ghesi Educa, un evento organizzato dall'amministrazione comunale per promuovere la cultura, la famiglia e il rispetto dell'ambiente. La Salute Expo Junior è un percorso di educazione alla salute rivolto ai bambini e ai ragazzi. È stata un'esperienza molto positiva, ha detto un volontario. Vedere i piccini divertirsi e imparare è stato veramente bello. Nei mesi di febbraio, marzo e aprile, la Chiesa Avventista di Altamura ha vissuto il programma Diventando Grandi a sostegno dell'infanzia. Arte, nutrizione, esercizi sono alcune delle attività proposte che hanno coinvolto circa 10 bambini dai 6 agli 11 anni. Il progetto ha avuto il totale sostegno economico dell'otto per mille della Chiesa Avventista. Ancora i bambini al centro di un'altra giornata speciale, una grande festa di colori, sabato 27 maggio nella comunità avventista di Roma a Longotivere. Gesù fa tutto nuovo, il tema del sermone in cui i bimbi hanno utilizzato i colori donati da Dio per rappresentare valori come l'amore, la pace, la gioia, la speranza, la verità e lo stesso Gesù. Prendendo spunto da alcune storie dei Vangeli, in questo speciale sabato dei bambini, i più piccoli ci hanno ricordato che abbiamo bisogno di guarigione e di perdono per essere trasformati in nuove persone. Il semirimorchio del progetto Speranza in Azione attraversa la città dell'Ucraina per fornire vari tipi di assistenza. Nella tappa a Dubno, quasi 200 persone tra residenti locali e profughi hanno approfittato di questa opportunità. Al progetto, sostenuto dalla radio avventista mondiale, partecipano specialisti e volontari che aiutano a superare le terribili conseguenze della guerra. Oltre alle consulenze mediche e psicologiche, alla massoterapia e al servizio di parrucchiere, i visitatori possono ricevere sostegno spirituale iscrivendosi alla scuola biblica per studiare la parola di Dio online. Era l'ultima notizia. Ci salutiamo con un testo biblico tratto dalla lettera ai Colossei, capitolo 3, il versetto 13. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Vi rimandiamo al sito hopmedia.it per notizie aggiornate.